Ciao a tutti e benvenuti al mio canale. Oggi vi parlerò di un libro che ha influenzato milioni di persone in tutto il mondo con le sue lezioni di finanza personale, Padre ricco, padre povero, di Robert Kiyosaki. Questo libro, che contrasta due filosofie opposte sull'educazione finanziaria, è una lettura imperdibile per chiunque voglia comprendere come il denaro possa lavorare per noi. Immergiamoci insieme in questa affascinante storia e scopriamo le preziose lezioni che ha da offrire. Introduzione Padre ricco, padre povero, è un libro basato sulla vita di Robert Kiyosaki, che racconta la sua esperienza di avere due figure paterne con visioni completamente diverse sul denaro e il successo. Il padre biologico di Kiyosaki, il padre povero, era un uomo istruito ma con difficoltà economiche. Il padre ricco, padre di un amico, era un uomo senza un'alta istruzione formal, ma diventato uno degli uomini più ricchi delle Hawaii. Questa dicotomia ha permesso a Kiyosaki di confrontare due punti di vista molto diversi e trarre preziose lezioni di vita. Due padri, due filosofie. Kiyosaki descrive come i due padri avessero approcci opposti riguardo al denaro. Il padre povero sosteneva che, l'amore per il denaro è la radice di tutto il male, mentre il padre ricco credeva che, la mancanza di denaro è la radice di tutto il peggio. Questa differenza di vedute stimolò Kiyosaki a riflettere profondamente su cosa fosse giusto per lui. Educazione finanziaria Uno dei messaggi chiave del libro è l'importanza dell'educazione finanziaria, che non viene insegnata a scuola. Kiyosaki spiega che la maggior parte delle persone impara a conoscere il denaro dai propri genitori. Il padre povero di Kiyosaki credeva nell'importanza di studiare tanto per trovare un buon lavoro, mentre il padre ricco enfatizzava l'importanza di studiare per diventare finanziariamente indipendenti. Pensiero critico e mentalità Il padre ricco insegnò a Kiyosaki a fare domande come, come posso permettermi questo, anziché affermare, non posso permettermelo. Questa mentalità stimola il pensiero critico e l'abilità di trovare soluzioni creative ai problemi finanziari. Kiyosaki paragona questo approccio all'esercizio fisico, così come l'esercizio fisico rafforza il corpo, l'esercizio mentale rafforza la mente e migliora le capacità finanziarie. Esercizio mentale e rischio Il padre ricco incoraggiava a prendere rischi calcolati e a imparare a gestire il rischio, mentre il padre povero preferiva evitare i rischi e giocare sul sicuro. Questa differenza di approccio influenzò profondamente Kiyosaki, che imparò l'importanza di essere proattivo e di cercare opportunità per crescere finanziariamente. Lezioni pratiche Il padre ricco insegnò a Kiyosaki l'importanza di acquistare asset che generano reddito piuttosto che passività. Credeva che la casa non fosse necessariamente il miglior investimento, a differenza del padre povero che la considerava la proprietà più importante. Il padre ricco enfatizzava l'indipendenza finanziaria e l'abilità di fare lavorare il denaro per sé. Conclusione e crescita personale Grazie ai suoi due padri, Kiyosaki poteva osservare gli effetti dei diversi pensieri sulla vita delle persone. Il padre povero, con la sua mentalità limitante, rimase economicamente debole, mentre il padre ricco, con il suo pensiero orientato alla prosperità, costruì una grande fortuna. Questa esperienza insegnò a Kiyosaki l'importanza di scegliere i propri pensieri con attenzione e di essere aperto a nuove idee. Conclusione Padre ricco, padre povero, è un libro che offre preziose lezioni su come gestire il denaro e costruire la propria indipendenza finanziaria. Grazie per avermi seguito in questo viaggio attraverso le idee di Robert Kiyosaki. Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale per altri affascinanti riassunti di libri. A presto!